Estensione verticale tricipiti, con manubri. Seduti, manubrio in una mano con impugnatura neutra. Braccio in verticale, ma non completamente disteso. Flettere l'avambraccio, per portare il peso dietro la nuca, senza superare i 90 gradi del gomito. Ritornare in posizione di partenza. Errori comuni. 1. Spostamento del braccio dalla linea verticale, verso l'esterno. Per evitare questo errore, è possibile aiutare il braccio che esegue l'estensione, con la mano del braccio opposto. 2. Flettere l'avambraccio, oltre i 90 gradi del gomito.